Presidente, si sarebbe aspettato quattro mesi fa di arrivare alla sosta natalizia con 41 punti? Non me lo aspettavo, però man mano che abbiamo fatto questo percorso ci speravo e credo che abbiamo raggiunto i 41 punti meritatamente e siamo in una situazione di vantaggio se vogliamo, anche da un punto di vista psicologico e questo sicuramente farà molto importante. Adesso un paio di settimane e poi c'è la sfida con l'Alto Vicentino, insomma ci si arriva con 5 punti di vantaggio quindi è un buon margine. Sì, diciamo che oggi è un vantaggio numerico, è proprio un vantaggio psicologico che mi auguro che riusciamo a sfruttare anche in questa partita che non sarà comunque determinante ma sicuramente importante. Un'ultima domanda, un commento sulla partita di Amirante. Allora, questo ragazzo che da tre giorni si è inserito ed è stato recepito in maniera straordinaria dal gruppo ha dato una dimostrazione di capacità, di qualità e soprattutto diciamo di che si è già sfezionato a questa maglia e a questi tifoli, cosa importantissima. Grazie.